E' peggiorato moltissimo la situazione e se va avanti così sarà sempre peggio perché se non riescono più a produrre il riso che è la loro base, la loro vita, la loro tradizione, la cultura e quello che c'è di più semplice per loro. A presto tutti i nostri amici, mi hanno ottenuto più di euro, e le hanno ottenuto più di euro, e le hanno ottenuto più di euro, e le hanno ottenuto più di euro, sistema di farmazione. Questo ciò che aiuta a sostenere meglio con la cambiamento climatico, come si tratta o a flood.